C'è storia e storia e poi esiste l'amore per gli amici, per i propri cari, per la verità ed è tutta un'altra storia. Una cerimonia particolare, quella di oggi nel sesto anniversario di una delle più grandi tragedie italiane. Ed è proprio quella verità che si inizia a respirare nell'anno della sentenza di Rigopiano. Ad accompagnare l'abbraccio di Chiedi ai familiari di Dino, di Michelangelo e di tutte le altre 28 vittime, le note del violinista Giuseppe Pezzulo, il maestro del miserere. Una celebrazione sotto molti aspetti diversa. È un conto alla rovescia che sta accelerando in queste ore per chi per sei lunghi anni ha vissuto le attese nel tribunale di Pescara e i rinvii, uno dietro l'altro, portando con sé quella t-shirt con la foto di chi non ci sta più. Il ringraziamento al nuovo procuratore sentito, commosso, della mamma di Dino, Loredana. Anche Serpe era bravo, lo voglio dire, ha accelerato queste udienze. Eh sì, Bellelli sì, che lo conosco benissimo perché noi abitiamo qua e lui abita qua. Beh ha detto, l'abbiamo sentito tutti, l'ha detto davanti al giudice di accelerarli un po' queste udienze. E il giudice ha fatto quello che doveva fare. Uno spiraglio di luce signora, vero quest'anno? Sì, speriamo che continui e il 17 ci sarà la sentenza, però prima il 17 ci sono ancora otto udienze che andremo sempre. Io non sono mai mancata, anche non sentendovi bene, mi scusi perché l'emozione adesso di oggi pure la Pescara è stata tanta. In via d'Aragona, nel posto in cui il poliziotto Teatino, morto a 40 anni nel 2017 insieme alla moglie Marina Serraiocco, veniva con gli amici. Accanto al monumento lui dedicato, disegnato dall'artista amica Maria Elena Carulli, anche il fratello Alessandro, il prefetto Mario della Cioppa, il questore Francesco Di Cicco, i rappresentanti delle forze dell'ordine e il sindaco Diego Ferrara. Noi dobbiamo fare tutto il possibile, le istituzioni pubbliche, le autorità civili e militari per far sì che queste cose non accadano più. Possono sembrare parole di circostanza, ma la realtà è questa.